Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino, vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Sulla Pipilì per lavori un chilometro di coda in direzione mare tra Ginestra e Montelupo, rallentamenti in direzione Firenze tra Impoli e Ginestra. Sempre per lavori è chiuso lo svincolo di Montelupo in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Per incidente è bloccato il traffico in direzione mare tra Santa Croce e Sull'Arno e Montopoli-Valdarno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!